Siete pronti a immergervi nella vita e nella carriera del più famoso capo della mafia americana, John Gotti? In questo video vi porterò dietro le quinte del suo regno, scoprendo come è salito al potere e come ha governato la famiglia Gambino per anni. Imparerete anche dei suoi affari illegali, delle sue controversie con altri capi mafiosi e del suo lato oscuro. Non perdete l'opportunità di conoscere meglio questo personaggio leggendario nell'ambiente criminale. Se siete pronti a scoprire i segreti del regno di John Gotti, non perdete questo video. Nato il 27 ottobre 1940 nel Bronx, a New York. Il nonno di Gotti era un immigrato campano di San Giuseppe Vesuviano. Quando Gotti aveva 12 anni, la sua famiglia si trasferì a Shipset Bay, Brooklyn, allora un difficile quartiere italiano. Insieme ai suoi fratelli entra a far parte di una banda di strada locale e lì fece amicizia con Angelo Ruggero e Wilfred Johnson. Nel 1963 lui e Ruggero furono arrestati per essere stati visti su un'automobile rubata, che era scomparsa da un'agenzia di autonoleggio. Gotti ha trascorso 20 giorni in prigione. Nel 1966 trascorse diversi mesi in prigione per tentato furto. Per tutte le sue azioni fu notato da Carmine Fatico, un membro della famiglia Gambino che lavorava per Aniello della Croce, il sottocapo della famiglia Gambino. Il 27 novembre 1967 Gotti e Angelo Ruggero rubarono dall'aeroporto di Idolville, merci per un valore di 30.000 dollari. Lì cominciò la carriera nella famiglia Gambino. Pochi giorni dopo l'FBI ha iniziato a sorvegliare Ruggero e Gotti, e li ha sorpresi a caricare altra merce, insieme al fratello di Gotti e li arrestarono, dopo essere stato rilasciato dalla prigione. È tornato al suo vecchia banda al club di Bergen, ancora lavorando sotto fatico. Quando il boss del club fu incriminato per strozzinaggio, utilizzò Gotti per supervisionare le sue attività quotidiane al club. A questo punto Gotti incontrava occasionalmente Della Croce, di cui ammirava il fascino del mafioso veterano. Nel 73 Gotti fu incriminato per l'omicidio di un gangstar irlandese McBrutney, su commissione di Carlo Gambino al quale questo tizio avrebbe ucciso il cugino del boss. Quando Carlo Gambino morì nel 76 molti pensavano che Della Croce sarebbe diventato il suo successore, invece Gambino nominò suo cugino Paul Castellano. Dopo la morte di Della Croce nel 1985, Gotti e i suoi ebbero l'opportunità di eliminare il boss Castellano, perché il boss era contrario al traffico di droga messo su da Gotti. Il 16 dicembre 1985, Castellano e il suo vice, Thomas Bilotti, erano diretti alla Sparks Steakhouse di Manhattan, dove si sarebbero incontrati con Thomas Gambino. Quando Castellano è sceso dal veicolo è stato avvicinato da due uomini armati che gli hanno sparato sei proiettili. John Gotti prese il comando della famiglia Gambino insieme a Sammy Gravano, ma le famiglie lucchese e genovesse non erano favorevoli alla sua presa di potere della famiglia, visto che non avevano preso la decisione in commissione, e cominciarono a fargli la guerra, facendo saltare in aria il suo primo sottocapo Frank De Cicco nel 1986. Gotti è stato arrestato più volte nel corso della sua carriera, e sebbene abbia scontato del tempo sia nelle prigioni statali che in quelle federali, negli anni Ottanta è stato definito dai media il Teflon Don L.P., che ha evitato la condanna per accuse di racket e aggressione più volte. È stato a lungo sotto un'intensa sorveglianza elettronica gestita dall'FBI. Il suo circolo. Telefoni e altri luoghi di lavoro erano tutti intercettati. Per ovviare a questo, ha tenuto riunioni mentre camminava per strada. Il 5 dicembre 1990 gli agenti dell'FBI e detective di New York fecero irruzione nel social club e arrestarono Gotti, Gravano, Frank Locascio e Thomas Gambino. Le prove dei federali erano schiaccianti. Non solo avevano Gotti su nastro, ma avevano anche diversi testimoni contro di lui, come Filippo Leonetti, capo della famiglia di Philadelphia, e convinsero anche Gravano a testimoniare contro di lui. L23 giugno Gotti è stato condannato all'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. Gotti è morto di cancro alla gola il 10 giugno 2002 presso lo United States Medical Center. Grazie per aver guardato il video su John Gotti, il famoso boss della mafia che ha governato la famiglia Gambino per anni. Spero che abbiate apprezzato, e se vi è piaciuto questo video, vi invito a iscrivervi al canale per ricevere aggiornamenti sui prossimi contenuti. Grazie ancora per avermi seguito e spero di vedervi presto per altri video emozionanti. Grazie per aver guardato il video.